Dimostrazione dell'antifusco Ah proprio tipo spagnolo Poi si attacca a grighe E' intelligente, tra l'altro non sta neanche in metto alle talle E' intelligente di questo, non sta nemmeno in metto alle talle Ah è proprio una staffa che si mette sopra quell'altra Dei bulloni antifusco? Si, si, chiaro Dove siete voi? Io di Modena, io lui di Modena Io di Milano, Modena, Modena, Modena Cosa lo potete dentro? La premuta o Modena? Milano Super, super Grazie